Passo la parola al padrone, il mio amico Presidente, il dottore Lino Centro. Salve a tutti, non posso che ringraziare tanto la vinstrazione di Tosia che ci supporta, ma in primis Gianluca Tizzo con la sua associazione che rende al vertice delle accoglienze di questo evento il Giro Sicilia, il top, devo dire, in Italia, con il rato di portare e supporto in questo, perché un'accoglienza così tale vedo che non esista in Italia almeno. Quindi complimenti, complimenti a voi perché le idee che il Giro Sicilia è più importante. Ripeto sempre, ma in realtà l'organizzazione non siamo noi, ma sono i siciliani. E poi serve il top perché l'accoglienza che date agli ospiti, agli stranieri che provengono da tutto il mondo e li fanno sentire a casa propria. Quindi così devo fare io un applauso a voi per questa coincidenza. Complimenti a Gianluca Tizzo con il Giro Sicilia.